Cariandro Stefano, Stefano Cariandro per, ecco, chiederti appunto come secondo te possano armonizzarsi questi temi con le prospettive politiche della regione di Romagna. Buonasera, ringrazio gli organizzatori che essa, Ferrari, di questo importante appuntamento che in campagna elettorale, il mio giudizio sta a significare qualcosa in più rispetto al tema scuola perché notoriamente il tema si interreccia con tante delle politiche regionali in tema di formazione che pure siamo tenuti a mettere in campo e a sviluppare nel corso del tempo. Allora, mi viene in mente un po' quello che è la storia, Navide prima la chiamava la buona scuola che insomma è quel modo in cui si cerca sempre un po' di raccontare quello che uno aspira ad avere e che se tutti quanti voi che siete operatori del settore, come si dice di certo, conoscete meglio di me c'è quella scuola con le tante difficoltà, i tagli, le tante rivoluzioni che nel corso degli ultimi anni ci sono state che hanno reso il percorso scolastico della di chi partisce, educa i nostri figli sempre più perdi, sempre più complicati. All'interno è un giudizio anche di quella che è l'aspettativa per la formazione e il piano che la formazione stessa deve avere nel nostro territorio. È evidente che parlare di ruolo della regione e della formazione con Giovanni Seglioli in campo cioè in sala è un po' complicato perché è uno dei massimi esperti che ha amministrato e diretto in tante scuole locali, io lo conosco da tanti anni e lui va tutta la mia stima, quindi ho la piena consapevolezza che molte delle cose che posso dare come contributo dovrebbero comunque passare da un confronto con delle persone così preparate, così importanti per il nostro territorio. Dico questo perché ho una consapevolezza che nel percorso formativo regionale passa molto di quello che possono dare i nostri giovani per le scuole tecniche e nel percorso formativo dei nostri giovani adolescenti passa per passaggio per scuola a formazione in cui la regione Emilia Romagna può dare molto, ha dato e ha già dato nel corso del tempo passato. Vedo a dire però che da questo punto di vista le complicazioni della formazione, le complicazioni che si sono date nel corso del tempo non rendono semplice neanche in Emilia Romagna questo tipo di lavoro, non lo rendono semplice per una serie di motivi, alcuni sono di carattere strutturale, cioè quanto siamo in grado di investire noi su questi tempi, altri sono di carattere anche della popolazione che compone le nostre scuole. È vero infatti che i nuovi cittadini, i nuovi studenti costituiscono un modo diverso anche di percepire il ruolo dell'insegnante con delle sfide sempre più grandi per l'insegnante stesso. Allora la fase della proposta in realtà credo che la regione passi anche molto dalla fase del monitoraggio delle priorità. Questo è una regione che ha un arrocamento su alcuni passaggi, su alcuni punti molto complicati, penso per esempio al blocco intervenuto rispetto alle tematiche relativi allo sviluppo dei territori del nostro territorio, che erano stati concepiti in una fase più avanzata evidentemente della formazione, ma che costituiscono le politiche di inserimento anche per la scuola lavoro, almeno così era, come forse i settori ce la può raccontare, così erano quando sono stati concepiti. Cioè noi abbiamo la necessità di ripartire da quella disegno di network tra impresa, scuola, università che poteva essere l'offerta reale e il fatto che su quel progetto ci siamo allenati costituisce per giudizio uno degli elementi sui quali bisognerebbe discutere per il prossimo mandato. Cioè quanta formazione, quanta capacità di creare risorse utili al territorio si è migliorato di mettere in campo. È evidente che questo mio ragionamento deve fare i conti anche con un mondo, quello della scuola, che è evidente che io non sono nelle condizioni di poterli assumere in questo breve intervento di campagna elettorale, che devo necessariamente tagliare in maniera verticale con le politiche regionali sulla scuola. E vi chiedo quanto noi possiamo fare per esempio per quello che riguarda la formazione, la possibilità che i nostri docenti stessi siano in sinergia non solo con i programmi di testo, con i programmi scolastici classici, ma anche con le politiche regionali attive in materia di formazione. Forse su questo tema il nostro stato di avanzamento e di discussione non è mai decollato, per giudizio. Cioè c'è uno sviluppo della capacità, delle milioni di risorse ai nostri corpi docenti che potremmo sviluppare meglio. Io penso all'esperienza fatta in provincia, dove in maniera positiva sono stati sviluppati dei piani formativi anche attraverso il provveditorato e sono stati sviluppati quindi piani extrascolastici per intenderci rispetto alla formazione in classe. però allo stesso tempo non c'è stato secondo me quella strutturazione progressiva che sarebbe necessaria. Io penso che questo sia il tema reale della difficoltà nella quale ci troviamo ad operare. C'è da una parte una grande consapevolezza che c'è il bisogno di scuola, c'è il bisogno di insegnanti preparati, c'è il bisogno di classi che siano nelle condizioni di poter operare. Però allo stesso tempo questo percorso diventa sempre più complicato, almeno così lo percepisco io e forse, spero più così, mi possa essere anche spiegato altro perché si sarebbe dice, perché i tagli alla scuola, alla formazione e agli enti rendono questo percorso necessariamente più accidentato. Allora la discussione evidentemente diventa forse una discussione su ciò che è prioritario per il nostro territorio. Io credo che riparta la scuola, riparta la formazione, riparta lo sviluppo delle capacità dei nostri stessi alunni, soltanto se noi scegliamo di dare alla scuola e ai corpo docente un ruolo prioritario nel rilancio del nostro distretto. Questa regione ha bisogno di ripensarsi. Alcune volte forse in realtà ripensarsi non passa in realtà dalle idee nuove, ma bisognerebbe sviluppare anche quelle che già sono rimaste nella fase embrionale. Io penso realmente per una discussione in questo territorio, sia a partire da tanti anni, cioè Ferrari e tanti di voi hanno avviato da tanti anni, almeno per la mia esperienza che vi frequento di tanto in tanto, non essendo io un docente, avete avviato da tanti anni tante riflessioni. Forse il problema è quando uno fa i conti e dice ma tutte le riflessioni, tutte le analisi che sono state fatte su ciò che sono gli insegnanti, su quelli che sono i progetti, quelli che sono le possibilità di realizzazione. Quanto investimento c'è stato realmente rispetto all'analisi? Ecco, forse è il momento di passare dalla fase embrionale a quella attuativa e su questo bisognerebbe che la stessa regione, lo stesso Stefano Bonaccini e se noi saremo della compagine consigliare ci prendiamo in maniera diversa. Evidentemente il forum scuola, ma anche i consulti che si sono mossi in questi anni hanno dato un grosso contenuto. Ma le sfide cambiano, come cambiano anche le modalità di insegnamento e penso che forse dovremmo riflettere su cos'è una nuova modalità di insegnamento al tempo di una regione che sta cambiando pelle. Su questo e su molto altro, credo che la riflessione non appartenga tanto alla sfera del monitoraggio. Mi pare che sia stato monitorato tutto sulle problematiche del rapporto tra scuola, formazione, lavoro. Come sono le risposte? Che in alcuni casi e con gli insegnanti sono stati che li mettono in piedi, ma parliamo a mio giudizio sempre o quasi sempre, di capacità individuali. Ecco, io non ho visto, onestamente se devo muovere un'autocritica a quello che siamo come regione in questa fase, la volontà fino adesso di sviluppare tutte le forze inespresse che sono state messe in campo dalla fase istruttoria. Su questo probabilmente bisogna anche ripensarci un pochettino. Io prima di venire, chissà, ho già una riflessione e dico, ma in realtà quante cose di quelle che ho sentito dire in questi anni sono state fatte? Molte no, alcune sono state fatte. Però, ripeto, la sensazione che hai quando parli con i presidi, a me è successo quando mi coprivo l'incarico di presidente del Consiglio provinciale, la sensazione che hai quando ti confronti con gli insegnanti o con i presidi delle scuole medie superiori, è che molto stia alla capacità che gli insegnanti autonomamente insieme ai loro presidi mettono in capo. E questo però non è una notizia solo positiva. Il senso di abbandono, il senso della mancanza di una regia è una responsabilità che sta anche in capo a noi. Allora, su questo forse la riflessione dovrebbe essere anche un po' più tracciata. Penso che dovremmo reinvestire di scegliere la scuola come priorità di inserimento e di rilancio. Questa è la mia idea. Poi verrà anche il tempo di capire quali possono essere stati gli arretramenti. Però ho la sensazione che ci sia poco da analizzare e molto da fare. Ho la sensazione che siano depositate fiorfiori, almeno io li ho incontrati, fiorfiori di proposte, di inserimenti, di collegamenti tra scuola, formazioni, corpi insegnanti, formazioni degli insegnanti, ricollocazioni degli insegnanti, che però stanno sulle carte. Non so come dirvelo. Quindi forse l'impegno più forte che potrei prendere è quello di farmi portatore dei bisogni che avete già messo a fuoco e stabilire compatibilmente con l'attività amministrativa quale può essere il timing di realizzazione delle nostre idee e delle nostre proposte.